Una fondazione che possa garantire continuità alla manifestazione e la sua permanenza a Gubbio, coinvolgendo soggetti istituzionali e privati già impegnati o che potrebbero essere coinvolti e un cartellone 2017 che conferma la qualità assoluta della rassegna dando a Gubbio un ruolo primario. Sono i temi caratterizzanti la conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Pretorio per la presentazione del Festival del Medioevo, una terza tappa dopo quelle di Milano e Perugia che ha visto la presenza del sindaco Stirati e dell'ideatore della Kermess Fioravanti, ma che è stata l'occasione per focalizzare l'attenzione sugli appuntamenti squisitamente legati alla città. Nella sua prolusione introduttiva il sindaco ha ribadito che dopo appena tre anni la manifestazione è più che matura con un cliché consolidato, un profilo estremamente accattivante che coniuga l'alto specialismo e personalità di spicco con la capacità di rivolgersi al grande pubblico. Stiamo pensando anche per questo ad assumere una forma giuridica qual una fondazione con la presenza delle istituzioni fondamentali, ha precisato Stirati, che già aveva accennato a questo tema a Perugia, ma oggi lo fa con maggiore convinzione. Cercheremo di coinvolgere pubblico e privato, come la Fondazione Carisp Perugia, o i soggetti che possono sostenere il progetto in modo continuativo. Stirati ha anche aggiornato sul futuro del Centro Servizi Santo Spirito, che è contenitore principale delle manifestazioni del Festival. Stiamo per riconsegnare definitivamente alla città il complesso di Santo Spirito, ha detto, la società di gestione agli sgoccioli della sua attività operativa. Il Comune è pronto a riassumerne la gestione e si sta immaginando un appalto futuro affidato ad un bando per un soggetto che gestisca la struttura per tutte quelle finalità per le quali sembra avvocata. Dalla sua, invece, Federico Fioravanti ha ricordato i tanti appuntamenti di spicco che coinvolgono direttamente la comunità eugubina, anche per i temi trattati, in primis con gli incontri con gli autori, cuore della manifestazione, fin dal primo giorno, mercoledì 27 settembre, dal deserto dei Monaci, raccontato da Alberto Luongo, che parlerà di Fonte Avellana, alla relazione del professor Dallarun su Francesco D'Assisi per passare a giovedì con il ritorno del professor Michaelizzi impegnato sul tema La città di Pietra. Non mancherà un passaggio su riusi urbani, centri storici e contemporaneità con Sergio Rizzo e Leopoldo Freire, fino al confronto tra i discendenti di Dante Alighieri e Cante Gabrielli, venerdì alle 10 sempre al centro servizi, con Anna Buoninsegni e i pronipoti, due protagonisti dell'esilio, Sperello di Serego Alighieri e Antoine de Gabrielli. Da non perdere mercoledì sera alla chiesa di San Francesco il concerto della scuola gregoriana Assisiensis, dedicato a Sant'Ubaldo, mentre sabato in Piazza Grande ci sarà l'omaggio del gruppo Sbaglieratori al Festival, con cinque bandiere speciali di cui il presidente onorario Giuseppe Sebastiani ha mostrato in anteprima quella che riassume le quattro immagini più significative con il ritratto di Carlo Magno e del mosaico recentemente rinvenuto in Inghilterra ma appartenente agli scavi romani di Gubbio. Lavoriamo per la città e crediamo in questa manifestazione, ha detto Sebastiani. Fioravanti ha infine preannunciato un appuntamento privato alla sede di Tecla a San Marziale con architetti italiani e stranieri per discutere della carta di Gubbio, carta urbanistica fondamentale, e infine l'incontro con gli appassionati di numismatica con Andrea Cavicchi, dedicato al percorso evolutivo dalla prima moneta di Montefeltro alla prima di Della Rovere. Non mancheranno anche quest'anno la Fiera del Libro Medievale che proporrà un'inedita edizione italiana dei Sette Miracoli di Gubbio, edita dalla Fondazione Mazzatinti e le rappresentazioni in costume promosse dall'Associazione Quartieri e Maggio Gubbino che spazieranno per il centro storico nell'arco dei quattro giorni di festival.